Come attivare e disattivare i movimenti su Fortnite? Sarei tutti bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come attivare e disattivare questi movimenti e come modificarli quindi se andiamo su impostazioni con la nuova interfaccia che hanno aggiornato su Fortnite se vai su mouse e tastiera scendi fino a giù fino a trovare il movimento con tastiera qui dice usa diagonali personalizzati si e no e la disattivi se invece vuoi usare queste impostazioni questi sono i movimenti corretti da usare angolo diagonale in avanti 52 angolo movimento obbligo 72 e angolo diagonale all'indietro 135 se non ti vanno bene puoi anche smanettarci sopra e fare dei test e vedere qual è che è meglio per te per ora questi sono i movimenti corretti da utilizzare su Fortnite e facciamo applica e facciamo salva quindi se questo video ti è stato utilissimo su come attivare e disattivare e configurare così i movimenti in Fortnite iscriviti e lasciati like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao